Lo Sport, tutto l'azzurro della vita, perché noi continuiamo così. 8 giugno 2015 si parte dall'Under 16 maschile, campioni, Coppa Primavera, dopo 20 anni e Serie B2, torna Rico, un fuoriclassico, Finotti, l'insassiabile Finotti, ma anche i bolidi del canottaggio, puntiamo a Rio 2016. 8 giugno 2015 si parte dall'Under 16 maschile, competenze, campioni, campioni galliano, Don't think about the rest Then you all get the power You all get the best And everyone gives everything And every song Everybody sings And it's like La 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 Life is like La 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 Life is like La 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 Life is like When we all feel the power Come on stand up and dance Life is like Grab the feeling of the people Life is like It's the feeling of the band Yeah When we all give the power This weekend Dove succedono successi Parola di campione Come think about the rest And you all get the power You all get the best And everyone gives everything And every song Everybody's in the world